La nuova certificazione aria pulita aiuta a riconoscere stufe, inserti caminetto e caldaia legna con ridotte emissioni e con elevata efficienza energetica. Ma anche la qualità del biocombustibile legnoso è fondamentale per un buon funzionamento delle stufe moderne. La legna deve essere infatti ben secca, possibilmente stagionata per un paio d'anni e con umidità di circa il 15%. Ecco allora due nuove certificazioni che tutelano i consumatori di biomassa combustibile. Una è la Biomas Plus, una certificazione che garantisce i consumatori su qualità, tracciabilità e sostenibilità di legna da ardere e cippato. L'altra è EN Plus che tutela invece le prestazioni del pellet in termini ecologici, energetici ed economici. Bruciare biomassa certificata è meglio.